Era il 13 di agosto del 2012. Giunto dopo la prima tappa di cammino a 2000 metri, mi fermo per una breve sosta ad una baita. Faccio colazione, fumo un po' di tabacco, leggo con un amico l'imitazione di Cristo. Voglio raggiungere la vetta, quindi la croce. Il mio cammino sarà così lento che una lumaca riuscirà a superarmi e raggiungere prima di me la meta. Ma la cosa più bella è aver incontrato sul mio cammino questo fiore rarissimo, il raponsolo di roccia. Fisoflexis comosa è uno dei più caratteristici e rari fiori alpini. Vegeta nelle zone di gran parte dell'arco alpino. Cresce sulle pareti rocciose, calcare e verticali, ed in ombra al di sopra dei 1400 metri. Deve il suo nome alla forma della radice, simile ad una piccola rapa. Spesso è chiamato in tedesco artiglio del diavolo, a causa della sua forma ad artiglio. Il suo periodo di fioritura va da luglio ad agosto. Questa è stata la cosa più bella che potevo incontrare per raggiungere la vetta. Grazie.